Ciao, sono Emilio. Vuoi vedere il nuovo volantino? Allora partiamo. Ehi Emilio, qui in Laftar sono io. Ricordi? Ops, scusa Alice. Ero solo gasato e volevo buttarmi nella mischia. Va bene, ma solo se prometti di non rubarmi troppo la scena. Promesso, sei la migliore Alice. Grazie. Grazie a tutti. Vi basta un clic, ma per noi fa una grande differenza. Lo sai che puoi regolare la velocità dello scorrimento del video? Vai in Impostazioni e scegli la velocità di riproduzione. Che ne pensi di queste offerte? Scrivi nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori. E tu, in quale negozio vai? Scrivili nei commenti. Vuoi essere tra i primi a conoscere le offerte più convenienti? Iscriviti al mio canale Telegram e non perderti neanche un'occasione. Su TrovaVolantini.it le offerte della tua città a portata di un click. Ho! Ho! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.